Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial che vi illustrerà come iscrivervi alla seconda call di Murate Idea Park e BAN Firenze. Ricordiamo call che si è aperta il 28 di marzo e che durerà fino al 7 di maggio, call rivolta alle idee di impresa innovative. Dunque, cominciamo subito con questo tutorial. Innanzitutto cliccare su Murate Idea Park, quindi visitare il sito www.murateideapark.it andiamo a cliccare dunque su murateideapark.it ed ecco che si aprirà la home page di murateideapark.it Andiamo a questo punto a cliccare su questa grafica, realizza la tua idea, Murate Idea Park e BAN for Ideas partecipa. Quindi clicchiamo sopra questa immagine e si arriverà alla landing page appunto per l'iscrizione alla seconda call di Murate Idea Park e BAN Firenze. A questo punto clicchiamo su partecipa adesso, ecco, ed arriviamo ad un'altra pagina, alla pagina di Gast per l'iscrizione appunto alla call. Qui troviamo scritto Apply by May 6, clicchiamo qua e arriveremo a questo punto alla pagina di inserimento dei dati. Ecco qua. Dunque, what's your name? Cominciamo a mettere il nominativo, nome e cognome. Qui indichiamo le relazioni all'interno della nostra startup, quindi co-founders, advisors, contractors, per esempio mettiamo co-founders. Dopodiché clicchiamo su next. Ecco, a questo punto scriviamo il nome della nostra startup, indichiamo se è incorporata o no la nostra startup e a che punto del proprio percorso è. Qui mettiamo per esempio che c'è un prototipo pronto. E qui mettiamo la locazione della nostra startup, quindi per esempio Firenze. Clicchiamo in seguito su next. Ed arriviamo al procedimento finale, ovvero inseriamo la nostra email. e creiamo una nostra password a piacimento. Dopodiché andiamo a spuntare su non sono un robot e clicchiamo su sign up. Ecco, ultimato tutto questo procedimento, vi arriverà un email nella quale ci sarà scritto che avete completato in maniera corretta l'iscrizione alla seconda call di Murateria Park e Ban Firenze. Dunque, buona iscrizione a tutti ed un saluto.